Accedere al credito diventa più facile per le piccole e medie imprese abruzzesi, dopo l'accordo siglato tra Confindustria Chieti Pescara e Fidi Impresa Italia. E' presentato questa mattina con l'obiettivo di supportare le imprese nell'affrontare la carenza di liquidità post-covid, come spiegato al nostro microfono da Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti Pescara. Oggi firmiamo un accordo importante con un confidio importante, Fidi Impresa Italia, e che ci darà la possibilità di poter ulteriormente stare vicino alle nostre aziende, direi anche in un momento particolare, anche di ripresa, quindi un momento positivo, perlomeno la tendenza che intravediamo è questa, e quindi un'opportunità importante che consentirà alle nostre aziende di poter accedere a garanzie di credito presso gli istituti bancari fino a 5 milioni di euro, e quindi direi con anche un importo consideriamo molto importante. Giancarlo Abete, presidente di Fidi Impresa Italia, chi può accedere a questi finanziamenti e cosa cambia per le imprese che possono beneficiare di questo credito? Possono accedere tutte le imprese, gli imprenditori, al di là di quella che può essere la struttura societaria, che in qualche modo già si rivolgono al sistema bancario per poter avere dei finanziamenti. Andando presso il sistema bancario, il sistema bancario da una parte valuta quella che è la situazione della richiesta dell'impresa nel merito, e dall'altra si garantisce anche rispetto al rischio fisiologico che il sistema bancario assume nel dare un affidamento ad un'impresa o ad un imprenditore. Fidi Impresa Italia svolge questa funzione di supporto al sistema bancario, garantendo in parte l'affidamento che viene dato alle imprese, e quindi di fatto favorendo il credito nei confronti delle imprese. Quindi le imprese possono rivolgersi tranquillamente presso lo sportello di Confindustria Chieti-Pescara, che garantiamo noi, che è società di servizi, che viene partecipata da Confesercenti e da Confindustria, portando le loro istanze di affidamento, ovvero possono naturalmente rivolgersi al sistema bancario, evidenziando di avere l'interesse che ci possa essere anche un coinvolgimento da parte di Fidi Impresa Italia.